Il libro di oggi, oltre a essere una bella e interessante testimonianza della ormai consolidata tradizione tipografica veneziana, è importante perché proviene della biblioteca personale del dottor Cesare Arrigo, come si evince chiaramente nell'etichetta posta in alto su quello che in gergo si definisce contropiatto anteriore. Cesare Arrigo il 13 febbraio 1889 lasciava tutta la sua biblioteca medica all'ospedale. Oltre ai libri, Arrigo donò all'ospedale civile 14.000 lire per la formazione della biblioteca e all'ospedale infantile tre cascine con relativi terreni annessi per un valore di circa 180.000 lire.